Benvenuti al Festival Nodal Molin 2012. Siamo qui con Piero Maestri e Francesca di Emergency. Piero, hai parlato poco fa nel dibattito del duplice legame tra le spese militari e l'economia e il debito pubblico. Da una parte c'è chi trae profitto da questo legame, dall'altra invece le spese militari ovviamente incidono molto nel nostro debito. Cosa ne pensi? Cosa ci puoi dire a riguardo? Giusto per dare qualche dato, quello di cui si è parlato prima, noi abbiamo un debito consolidato dello Stato italiano intorno ai 1900 miliardi di euro e contiamo che negli ultimi dieci anni sono stati spesi, a seconda delle fonti, ma secondo il Sipri che è un istituto internazionale, 280 miliardi di euro in spese militari. Quindi diciamo che il 20% circa del debito è rappresentato dalle spese militari. Quindi c'è questo legame diretto. Le spese militari sono una delle cause dell'aumento del debito perché sono tutte spese pubbliche, sono tutte spese che vanno all'acquisto di materiali militari, al mantenimento dell'esercito, delle forze armate e così via. C'è poi un legame differente, diciamo così, tra le spese militari e l'economia, che ho cercato un po' di affrontare, che è quello per cui le guerre che si sono succedute, le operazioni militari che sono state fatte dal 91 in poi, in Iraq, in Afghanistan, ancora in Iraq e così via, sono in qualche modo uno degli strumenti che gli Stati Uniti e i loro alleati in particolare hanno utilizzato per rallentare il declino economico e garantirsi un'egemonia nel pianeta che gli permettesse comunque di avere ancora una parola importante sul piano economico. Quindi c'è questo legame, diciamo, doppio tra spese militari e andamento dell'economia, che sono da una parte l'aumento del debito, l'aumento del peso sulla società, delle spese militari e dall'altra un'economia che è sempre più legata a filo diretto con gli interventi militari. Francesca, hai parlato degli F-35 e in questo tempo di crisi le spese militari purtroppo continuano ad aumentare. Emergency cosa ne pensa? Emergency appunto si contrappone ovviamente all'acquisto di questi F-35 e invece pensa che questi soldi potrebbero essere utilizzati in maniera molto più intelligente. Per farvi un esempio, il solo motore di un F-35 costa circa 5 milioni e mezzo di euro. Con 8 milioni di euro circa noi abbiamo costruito il Salam Center di Khartoum, che è un centro cardiochirurgico d'eccellenza. Con l'acquisto di un F-35 noi perdiamo l'opportunità di costruire ben 12 centri d'eccellenza che in un paese come l'Africa potrebbero fare la differenza non solo da un punto di vista umanitario ma anche da un punto di vista economico e occupazionale. Piero, a proposito delle basi militari, quali vantaggi potrebbe avere il territorio dalla riconversione di questi basi ad uso civile? Allora, prima di tutto ovviamente bisogna essere d'accordo e credo che noi lo siamo e il Movimento Nord al Molin l'ha dimostrato, che le basi militari sono un costo per la popolazione di un territorio. Sono un costo economico perché rappresentano appunto un costo diretto e indiretto secondo i documenti che sono stati scoperti tra l'altro anche dal Movimento Nord al Molin i cittadini italiani pagano il 41% delle spese delle basi statunitensi in Italia quindi noi paghiamo anche per le basi degli altri, tra virgolette, per sostenere la loro difesa. E poi sono, ed è forse più importante, un costo sociale, territoriale e politico. un costo sociale e territoriale perché sottraggono risorse territoriali, beni comuni allo sfruttamento, all'utilizzo della popolazione e politici perché rappresentano una forma di pressione e di controllo della politica di un paese. Abbiamo ricordato che la strage di Piazza Fontana è nata anche dentro un accordo e dentro una base di Verona, comunque stava dentro le strategie della Nato e degli Stati Uniti. Riconvertire significa restituire un territorio alla popolazione che lo abita che vuol dire la possibilità di uno sviluppo economico differente quindi uno sviluppo economico che garantisca occupazione a lungo termine che garantisca l'utilizzo di quel territorio alla popolazione significa uno sviluppo sociale e territoriale diverso per cui a quel punto non ci sono più delle enclave sottratte all'utilizzo della popolazione e appunto un guadagno politico perché finalmente la partecipazione può decidere su un territorio che non ci sono dei ministri Letta o dei ministri la russa che decidono o Parisi o chiunque altro che decidono che non si può fare niente e che se gli Stati Uniti hanno deciso di allargare la base così deve essere. Francesca, poco fa nel dibattito hai parlato della realtà di emergency che si sta sviluppando sempre più anche in Italia. Qual è l'azione che sta portando avanti oggi emergency non solo sul territorio nazionale ma anche in quello internazionale? Emergency si occupa appunto di costruire ospedali in zone colpite appunto dalla guerra, dalla fame, dalla povertà e in generale da gravi condizioni di indigenza e inoltre anche da una grave possibilità di trovare occupazione. In Italia emergency è attiva ormai da tempo anche appunto a livello proprio medico e chirurgico medico anzi con i poliambulatori Emergency appunto ha aperto questi poliambulatori prima il poliambulatorio di Palermo e poi il poliambulatorio di Marghera e adesso sta appunto girando per l'Italia con questi due polibus inizialmente i polibus andavano in sud Italia questi due pullman allestiti con il necessario per prestare cure mediche e adesso sono andati anche recentemente nei territori emiliani appunto colpiti dal sismo. Emergency in Italia comincia a sentire sempre di più negli anni la necessità di appunto portare cure anche in un territorio come il nostro dove l'accesso alle cure dovrebbe essere garantito a tutti quanti. Bene, se le spese militari continuano ad aumentare i diritti invece sembrano sempre meno garantiti nel nostro paese anche perché si investe sempre molto meno in tutti quelli che sono i servizi sociali che potrebbero appunto aiutare la popolazione, i cittadini che vivono appunto in un paese come il nostro che si definisce sia civile che democratico. E poi Emergency nel mondo comunque continua sempre con la sua opera sperando sempre che appunto i soldi investiti per le armi e appunto che le guerre un giorno vengono a cessare e appunto che anche questi soldi vengono via via ridestinati a come diceva Piero ad attività sempre più utili. Grazie, grazie ai nostri ospiti e alla prossima!